caro ryuki io ti amo se non fai il bravo io ti amo dobbiamo vincere it's time to troll e baciati per i miei benvenuti in questo video come sempre sono tecnolide e siamo tornati con un nuovissimo video troll ragazzi su rainbow six con la voce modificata dato il successo del primo episodio che mi raccomando se ve lo siete persi andatevelo subito a recuperare ovvero l'episodio dove usavamo autotune nelle ranche di rainbow six dato appunto che abbiamo superato i like richiesti per il nuovo episodio oggi entreranno in gioco il bm e thanos mi raccomando come al solito arriviamo ad altri 3000 like se volete un altro episodio del genere con un'altra voce ragazzi perché ne ho un sacco diverse detto ciò ragazzi buona visione oh ragazzi se volete ancora ma accetta l'amicizia tecnolide che basta a numero un pucca azzuuu comunque ragazzi c'ho mio fratellino piccolo che se volete ve lo passo uè brutto scemo vengo lì ti dà una testata e ti scordi il tuo nome uè io mi chiamo il bimintia sei il fratellino di puzza via ma vengo lì ti in culo e ti faccio vedere io puzza via ma non parli più arrivo stai attento faccio bottiglia e ammazza famiglia ma non eri quello era tipo albanese tu sei marocchino allora chiamiamo l'albanese adesso oh cosa vuoi tu io ti faccio sparire qui eh sembro io guardo vestito questo non è albanese comunque se volete possiamo far diventare tutto un pochino più dolce tipo c prima ti faccio sentire solamente albi che stai? bottino qua 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 oh aspettate che faccio arrivare albi albi in fiolore che? 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 questo è questo? stai muoio a aspettate un pochino un pochino un pochino? gentio! sto arrivando! aiii! va a bastionare mi aiuto! mi aspetta! prima! aiii! aiii! si no ma lui guarda spettino all'ultimo ecco a sinistra lungo arrivando 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 prima t'ho detto dietro mi senti col megafono? prima t'ho detto dietro invece regà minchia uu adesso son fatto finca son fatto oh vuoi trasmetto? oh mi raccomando tutti seri arrivo aspettatemi per favore andiamo tutti uniti vaffanculo nooo 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 Draven mi senti? si ti sento immagina che sono sulla che sono sulla cima di una montagna vai vai Draven 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 eeeeeee a luce a luce a luce a luce a luce mi senti? 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 ma scemo 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 ma questa luce secondo voi che è abbastanza finita? vabbè ora devo fare modificare un'alto sinistra guarda che faccio il giro mi fermo così vabbè vabbè bravo tec vai l'altro a sinistra c'è la sinistra a sinistra aspetta che c'è il giro mamma ah ah vabbè 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 ho sproccato il potere adesso ho sproccato il potere supremo no da dove? aiuto aiuto aiutami aiutami non ho fatto niente di male cazzo mi sta bruciando mi sta bruciando mi sta bruciando ahhh 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 ma dove? ma perché non lo vedo io si? ma sto facendo le rambe ragazzi grazie com'è bravi raga gg per power e servito non vi arrabbiate ragazzi non vi arrabbiate ma porca puttana volete far parlare Draven per favore che non ho capito quello che dici dicevo aiutami ah ora fanno apposta però eh non immagini dai togli colopole si la gente maleducata proprio eh fa proprio cagare mute ma c'hai qualcuno lì? di dove? dove stavi mirando se parlo con mute vuol dire che sto parlando con lui ah mute come non riusco capito? no mute mute senti senti? servito ci trovi da dove? augurка questo bui chi è? no non puoi mettere una pro sto ti sento a Lu gotti bello gg regg per esempio 快 6 a 7 kill arriviamo a 10 presente laose Eh minchia, guarda, proprio minchia, senza il mirino Eh, almeno tu ce l'hai il mirino Vai, vai, apri, apri i driver Minchia, drive, volevi aprire, forse Oh, sei pronto, Ryuk? Vai Vai, vai, Ryuk Minchia però, minchia, te l'hai fatta per il giusto Oh, the hell Di qua? È quello del bagno Sì, è vinto Ma è maitraiato il garage questo, figlio di puttana Ragazzi, è uno in drop finestra di garage Non c'è, Ale, come l'hai visto? Mi interroga, mi interroga, palestra, palestra Ma come ti piaceva fare il puttana? Porca troia Ragazzi, io sto sclerando Oh, vi ho messo una camp sul corridoio, così riuscite a controllare bene Ho visto, ho visto, ho visto, palestra Dai, porca, diazzo Sky main, boom Ho raffraggato Lo stanno dronendo Ce la morti, ce la morti No, lion, lion You're exposed Lion Sky main, ne è un altro Uno è su botola Oh, parassi Quale botola, la cucina? Botola main Sky main è entrato, è entrato Perito, perito uno, su cucina No, è su uno stanzino, accanto a te la luce Bravi Allora, raga, mamma mia, la voce del BN, aiuta, vincere Wow Dai, la voce è modificata, perché sto giocando con il stile BN Eh sì, sì Vuoi cambiare voce, almeno, non ti posso scambire proprio questa, è odiosa Perché? Non ti piace? Va bene Dicco questa, chi fai? Oh, sfanchillalo Cazzo, sfanchillo Raga, dobbiamo romparci da bar, eh Rompete la botola di bar Ok Ok, adesso andiamo al drop di cappella Drop di cappella, raga, vai Drop di cappella Dobbiamo Rompete, briciate la cappella Oh, sei fai, sei fai Dai a destra, Rick Prezzo, preso, preso, preso Bravo Ah, sei di sopra Di sopra, raga A metà vita Arrivata, scala, scala, scala Un altro lì, un altro lì Allora, Gigi Sari tutti Ciao, Rick Sari tutti, allora Sì, ma raga, non devo plantare gli opposti Buonasera Gigi Zucca, la minca, vulpina Io vi abbandono, è stato un piacere Idem ragazzi, io devo andare su di via Bella rega, ciao 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 Ciao